Maurizio Ianni, la vittoria di Mugnano fondamentale perché si è vinto soffrendo contro una squadra in buona forma? Sì, hai detto bene, incontravamo una squadra che in questo momento era in ottima forma e poi sul suo campo sintetico, molto veloce, è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti giusti della partita e abbiamo portato a casa questi tre punti che per noi sono fondamentali. Dicevamo prima con Improta, si è rivista l'Aquila di Ianni dello scorso anno, della prima parte della stagione, cioè quella che sa soffrire ma monetizzare il risultato. Sì, questo è un campionato dove c'è bisogno anche di queste partite, logicamente non sempre si può avere quell'atteggiamento, è normale che a volte in determinati campi, in determinate situazioni ci vuole anche questo spirito, i ragazzi lo hanno dimostrato e per me questo è un segnale importante. Sperando che la neve non incida ancora una volta su questa partita che diventerebbe se no maledetta, facendo un po' le carte, l'Aquila e Teramo, punti di forza o di debolezza in sintesi secondo Maurizio Ianni? Secondo me sono due grandi realtà di questo campionato, il Temo si è andato costruendo strada facendo, l'Aquila è partita già dall'inizio con delle ambizioni ben precise, sono convinto che tutte e due le squadre possono recitare un ruolo da protagonista da qui fino alla fine, Tutte e due le squadre vengono da un ottimo momento, quindi sarà veramente un derby tirato, un derby dove tanti fattori dovranno essere positivi per una squadra o per l'altra per averla meglio in questa partita, perché veramente ci vuole quasi una partita perfetta. Può essere una sorta di gara cruciale per l'Aquila? Gare cruciali, il campionato manca ancora in 12 partite, sicuramente superare questo ostacolo così difficile per noi significerebbe avvicinarci veramente a un traguardo che noi vogliamo dall'inizio. L'ultima, il Teramo dovrebbe essere senza Bucchi e Petrella ancora una volta, quanto può incidere l'assenza di questi elementi e poi dal vostro punto di vista com'è la situazione generale della squadra? Io dico sempre che al di là del singolo, questo è un campionato dove l'atteggiamento di squadra conta di più, che ha la meglio sull'avversario. Visto un Teramo che è cresciuto tantissimo, oltretutto in questo momento può contare anche sull'apporto di due giocatori importanti come Olcese e Ambrosini, quindi al di là di chi scenderà in campo sono convinto che da tutte e due le squadre saranno 11 giocatori che vorranno dare il massimo perché vorranno superarsi. Ripa al 100% tra quanto? Ripa sta raggiungendo la forma di settimana in settimana, già è un buon punto e sono convinto che molto presto darà il suo grande contributo a questa squadra.